Crescono i numeri del contagio nella residenza per anziani di Sant'Arsenio. Sono 12 in totale gli ospiti risultati positivi su 13 presenti. Contagiate anche 3 operatrici della casa di riposo. E questo è il quadro venuto fuori all'esito dei tamponi eseguiti dopo aver appreso della positività di una ospite del centro che era stata ricoverata per patologie pregresse presso Luigi Curto di Polla. Le persone contagiate stanno tutte bene e al momento risulta ricoverata solo la prima anziana positiva, ma la guardia è alta, visto che si ha a che fare con una popolazione fragile e con una situazione che ha già dimostrato altrove di determinare bilanci disastrosi legati al Covid. Il sindaco Donato Pica, di concerto con il Dipartimento di Prevenzione dell'Asla di Salerno, aveva blindato già alla prima positività la casa di riposo, disponendo che gli operatori contagiati continuassero a rimanere all'interno della struttura e che quelli fuori servizio rimanessero in quarantena nelle proprie abitazioni. Ora si spera di aver isolato la diffusione del virus e che i numeri di questo focolaio non li evitino anche all'esterno, nella comunità di Sant'Arsenio, che dopo questi contagi ha comunque visto crescere il numero totale dei positivi.